A livello nazionale si vive un'estate particolare con il turismo che si avverte, con il freno a mano tirato e così anche a Lecce, come in altre città, anche a vocazione turistica, gli incassi per gli utenti del settore sembrano calati. A lamentarsi sono soprattutto ristoranti, barre locali che vedono le vie svuotarsi presto a causa delle ultime ordinanze di controllo della Movida. Ma proprio questi dati portano i commercianti stessi a chiedere maggiori controlli sulle vie principali del centro storico, dove ogni sera purtroppo si assiste all'occupazione delle vie da parte di extracomunitari che espongono la propria merce contraffatta e praticano commercio abusivo ambulante. A loro dire il mancato controllo da parte delle autorità competenti, oltre a portare un degrado alla città, causa un grave danno ai commercianti stessi che ogni giorno sostengono spese e tasse per occupazione del solo pubblico. E così arrivano le denunce dei cittadini stessi che documentano con video amatoriali cosa accade, chiedendo un intervento ed un maggiore controllo.